Anche tu sei il livello 1. Eh sì, beh, ovvio. Allora, ti è venuto fuori? Il baule, sì. Crica conferma. Bene, allora adesso ti sta aprendo. Questo qua è bello, ti sta dando i materiali basi. Quindi dopo si hace la freccetta. Toccali con la freccia per raggiungere in automatico la prossima destinazione. Ho parlato con Carla mentre tu avevi da fare. Ha detto che d'ora in poi vivrai qui, che giocherai con me e che aiuterai anche a riportare qui tutti quelli che i saccheggiatori hanno portato via. E così, beh, hai avuto una buona idea su cominciare. Mio zio Derek si è sempre occupato di me, quando mia madre era via. Ma un paio di giorni fa è andato in una cittadina che si chiama Prospect per controllare cosa stessero facendo lì i saccheggiatori. Forse ha scoperto anche perché i saccheggiatori sono venuti qui. Dovrei ritrovare e parlare con lui e poi riportarlo qui. Non è completato. Ci sei anche te qua. Dexter dice a 9 e a 30 qua. Ciao! Ecco, non c'è neanche i capelli blu. Aspetta, in basso a destra? C'è la modalità avventura. Dove? In basso a destra. Opzioni. No, in basso a destra. Ancora in basso. In basso. Avventura. Ma tu sei svanonata, Martina. In basso a destra. L'ultimo tasso. Opzioni. Ah no, quello con i messaggi. No. Sotto! Avventura! Con le tue pistole. Aspetta, io non ho niente. Ma come non hai niente? Ah, perché devi cliccare su Sophie. Ah. Vabbè, schiaccia conferma tanto. Ti ho già letto io. Ok. Ah, avventura. Ecco, schiaccia vai su Prospect. Stiamo andando anche a te. Stiamo andando. Stiamo per fare le missioni insieme, Martina. Non c'è nessuno il suo rifugio. Siamo solo noi. Perché il rifugio più grande è quello tipo business. Non sai che ho visto su YouTube un video che c'è granny a Natale? L'arma comune, metti in uso. Sì, metti in uso. Ecco, allora. Spara gli zombie. Ecco, allora. Quando hai sparato? Parla con le tue parti. Sì, spara a te. Grazie mille. Prospect non era così infestata da anni. Deve essere successo poco prima che arrivassimo. Derek, no, no, no. Ti ho sparato gli zombie. Io sono simmorso. Cominciante, indipendente e mercante in libertà. Almeno che... Non è che ti riferisci a Derek Jackson. L'ha detto alla ricognizione del rifugio. Da allora posso esserti inutile. Derek è un membro nella nostra spedizione commerciale. Una vecchia conoscenza, in effetti. Se riesci a trovare gli altri membri del mio gruppo, insieme saremo abbastanza numerosi da rincettare Derek. Ma stai ascoltando un po'? E sto accettando gli zombie. Sì, vabbè, ma ascoltando anche... Ma vai dal tizio, che se no non puoi andare avanti. Dov'è il tizio? Qua! Via, sto qua! Sono qua! Ecco ti quasi, ti ho visto. Ecco, seguimi. Ah, simmor... Dove sei? Ma sta camminando da te. Eh, si morso. Dove sei? Non ti vedo più. Sono qua! Sono dietro di te, Martina! Dove stai andando? Aspetta! Ma dove sei? Ma sono qua! Ecco ti. Vieni qua! Segui me! Segui me! Girati! Girati! Segui me! Sant'idio! È un po' forte sta roba! Ma c'è un tizio! C'è un tizio qua, non lo vedo. Ma dove sei finito? Ma come? Dove sei finito? Che problemi stai? Dove sei? Dove sei? Sto a vedere la macchina! Ma sei andata, Martina? Martina, sono qui! Sono qua! Ah, è così. Ma qua... Mi segui? Sì? Sì? Sì, vieni con me! E dove? Ma vieni! Ma non lo vedi che qua c'è un tizio? Ah, sì. Ecco, clicca su di lui! E conferma! Hai confermato? Ehm... Hai confermato? Perché sennò non ti fa andare avanti! Stessa! Schiaccia su di tizio, schiaccia conferma! Eh, c'è andato su... Stai camminando! E' stato scattato per me! E' andato su! Prova a scelma lungo! Ok! Bene, allora... Piazza la freccia! Vieni, seguimi! Ah, ok! Segui me! Sì! Che brutto che sei! Sono bellissimo! Madame! Pallo è una figata! Ma dove sei? Non ti vedo! Sono qua! Io sono quella con i capelli blu! Ma secondo me tu sei cieca! Allora, guarda! Martina! Sì! Guarda! C'è un tizio qui! Guarda! Sì! Aiutiamolo! Bene! Missione completata! Livello 2! Sei a livello 2, te? No! Devi prendere il corpo, allora! Vai sul corpo, Martina! Ti difendo io! Quale corpo? Questo, davanti a te! L'uomo? Sì! Prova a scelma lungo! Ancora là, sei te! Allora, Sherman Lang, vieni! Seguimi! Seguimi! Vai su questo tizio! Schiaccia! Ah, questo! Schiaccia! Ah, ti ho trovato il tizio di cui ti aveva parlato con il titolo! Ci sei? Ok, vieni con me allora! Adesso! Seguimi! Martina! Eh sì, sono l'uno, ma non so perché sparo! Dai, vieni qua! Ancora ti ho anche visto! Allora, adesso tu devi... Aspetta un attimo! Ti tolgo sti tizio! Bene! Vieni che sono... Che sparo... Cicchina! Guarda, vieni qua! Sì! Questo tizio? Sì! Hai fatto? Non ce ne è completata! Livello 2, vero? Sì! Allora, adesso elimina gli zombie tra te e sin! Metti in uso, clicco! Sì! Sì, elimina gli zombie tra te e sin! Ah, ok! Slicca! Sì! Stiamo andando, Martina! Dove vai? Martina, dove stai andando? Martina! Cosa fai? Stai ammattando gli zombie! Eh, no! Stai andando! Martina! Eh? Mi stai prendendo in giro! Dove sei? Sono solo di prima! Ma perché stai andando dove vuoi stai? Martina, mi devi ascoltare! Ecco... No, questa non è... Dai, Martina! Non ti vedo! Dove sei? Sono dove di prima! Torna indietro! Se sei scema! Non è colpa mia! Sì! Dai, torna indietro! È così! Oh, alleluia! Allora, vedi che ci sono degli zombie che hanno... Che hanno la faccia sopra? Sì! Ecco, devi sparare a quelli! Finché non ti viene il punto interrogativo a destra! E mi è venuto in punto! Procedi verso la sezione! Ok, schiaccia allora! Vieni! Leggi! No! Ecco, guarda Martina che bello che sono! Schiaccia conferma! Ok, non confermo! Guarda che brutti che siamo, Martina! Bene, allora... Allora, vieni con me, seguimi! Vieni con me! Aspetta! No, dove sta andando? Allora, seguimi! Sì! Sì! Ok, allora... Devi... Distruggi quegli zombie, Martina! Spara gli zombie! Oddio, che figata che hai! Guarda io! Oh! Hai visto? Sì! Gli ultimi 4 non colpo! Ti è venuto il giletto da sciacallo! Cos'è? No, te avrai un'altra roba! Ti è venuta un'altra roba! Non puoi eseguire le sostanzioni! Metti in uso il giletto da sciacallo! Eh, mettilo! Metti in uso! Allora, adesso... Ti dovrebbe venire... Parla con Simor! Ah, non so se... Eh, sì! Parla con Simor! Ecco! Schiaccia la frecetta! Schiaccia la frecetta, Martina! Ecco! Ho fatto! Dai, vieni! Martina, lascia stare gli zombie! Vieni! Martina! Ti sparo! Eh, sto tornando! Ti sparo! Dai, vieni! Tanto gli zombie non ti possono attaccare quando sei... Allora, vieni con me! Dai! Ferma, Martina! Ferma! Vai dove di Simor! Martina! Sì? Parla col tizio! Sembra che abbiamo un problema! Vedi quel tipo robusto vicino a quel camion bruciato? È Derek, già! Gli zombie devono averlo raggiunto! Anche se non so come si sia ridotto così! Sì, quindi anche da fare... Continua a leggere te perché non l'ho detto! Dovremmo... Io ho già cliccato ok, è quello il problema! Ok, allora, elimina Derek Jackson! Allora, sto fermando un attimo, Martina, che mi metto a cagare! E facciamo la terza parte, un attimo! Fermati un attimo, Martina!